si sfrutta cera mangiate qui uova, prosciutto tagliate il mio ragù lo facciamo io e te Martina ci sfotte vai vai se ti avanza un po' di natura portala a me bene esatto, quello è il sensore e tu ci devi mettere ma non un piede la mano metti la mano sul sensore ma come non ci hanno portato via no, andò per c'è qualcuno che no, ma lì ci sfonda no, ma se stai qua e ci si fa con quel non lo sfonda no 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 grazie